Just Friends! Oggi analizziamo insieme questo brano, un altro bellissimo standard, io ho in mente la versione di Chad Baker in cui la canta e fa anche un solo con la tromba, se non ricordo male. Se vuoi segnarmi qui sotto nei commenti la tua versione preferita di questo brano, sono sempre curioso di ascoltare nuove versioni e oggi appunto l'analizziamo insieme. È uno standard che è stato suonato dai più grandi maestri di questo genere che è il jazz e sicuramente potrebbe piacere anche a te questo standard. Ok, allora prima di tutto andiamo a vedere la tonalità e quindi vediamo che c'è un diesis in chiave che ci sta a indicare che o siamo in Sol maggiore o in Mi minore, però siamo chiaramente in Sol maggiore perché l'ultimo accordo ci sta a indicare, è sempre il nostro indizio per capire la tonalità e infatti ci dice che siamo in Sol, anche se un Sol sesta va bene lo stesso e la prima cosa da fare è sempre quella di segnare 2.5, le risoluzioni delle dominanti, delle dominanti cromatiche, delle dominanti secondarie, dominanti estese, eccetera. Ok, allora andiamo subito a segnare questi 2.5. Partiamo da qui. Da qui. La freccia tratteggiata significa una risoluzione cromatica. Che questo resettimo in teoria risolve qui, cromaticamente. Se sei qua per la prima volta ti consiglio di iscriverti al canale poiché troverai molte altre analisi armoniche e molte altre lezioni jazz, di chitarrà jazz e non solo. Ok. Qui è la stessa cosa. Però lo segno comunque. Ok. Siamo già alla fine, abbiamo già praticamente compilato tutto. Questo 2.5.1 finale è il 2.5.1 che mi va a rilanciare il do nella prima battuta. Ok. Questo do maggiore settimo. Infatti anche qua è preceduto da una dominante. Perché la melodia inizia prima, inizia prima appunto dell'inizio della battuta. Ok. Allora, adesso segniamo i numeri romani e vi spiego un attimo l'armonia e le scale da utilizzare. Allora, questo do maggiore settima in relazione al sol è un quarto grado, ok? Che di solito, di default, viene utilizzata una scala lidia. Però, qua il do c'è anche in due battute e c'è sempre lo stesso accordo. Quindi possiamo anche pensare che questo accordo si tonicizza, ovvero che può essere anche visto come un primo grado maggiore. Anche perché è preceduto dalla sua dominante e come sappiamo in armonia si dice che quando il quarto grado è preceduto dalla sua dominante, è una dominante secondaria, comunque tonicizza l'accordo, ok? Quindi io qua vi segnerei due possibilità. O la scala maggiore o ionia, che suona anche bene perché già introdurrebbe di passaggio magari il fa naturale, che poi il fa naturale chiaramente si sente in questi due accordi, do minore settima, fa settima. Quindi vi direi ionia. Però potremmo anche pensare di utilizzare una scala lidia, perché no, ok? Quindi io ve la metto come possibile scelta sotto. Ok, però io penso che naturalmente a me verrebbe da suonare una scala maggiore, anche se è un quarto grado, perché si tonicizza. Anche perché poi alla fine, come vedete, c'è un 2-5 di do maggiore, ok? Però comunque in armonia, in relazione al sol, questo è un quarto grado. Ok, andiamo avanti. Allora, questo do minore settima fa settima sarebbe un 2-5-1 di si bia molle maggiore, ma va, diciamo, poi sul sol maggiore, che è il primo grado, ok? Questo sol maggiore è il primo grado. Questo è uno spediente armonico molto utilizzato. È come se fosse una cadenza d'inganno. Però, attenti, uso questo termine in modo generale, ovvero che ci sono tante cadenze d'inganno, ovvero degli espedienti armonici che sono stati sviluppati e utilizzati molto frequentemente nella composizione, anche nella composizione jazz. Perché, ad esempio, questo fa settima sarebbe il settimo grado, il bemolle, bemolle settimo grado di dominante del sol, perché questo accordo proviene, diciamo, che viene preso dalla armonizzazione della scala minore naturale di sol, ok? Infatti, questo sarebbe un modal interchange, ok? Schrivo M1 per intendere un modal interchange, ovvero è un interscambio modale. Quindi questo dominore settima è solo un secondo grado relativo al fa settima che lo accompagna, ok? Quindi le scale da utilizzare sul dominore settima, sempre un dorico, sul fa settima, solitamente su questi passaggi, si usa una lidian dominant anche qui, e poi sul sol maggiore, una scala ionia, sicuramente. Ok, quindi scala maggiore. Ok, quindi sul do minore settima non si segna niente. Su questo si bemolle minore settima e questo mi bemolle settima sarebbero due cinque uno di la bemolle maggiore, ma poi vanno a un la minore settima e un re settima. Sono dei... anche questo è un altro espediente armonico molto utilizzato, sono due cinque uno paralleli che scendono cromaticamente, e dove vediamo la loro soluzione. Tra il mi bemolle settima e il re settima, ok? Perché se noi mettessimo qua la settima sul mi bemolle settima, comprendiamo che il mi bemolle settima è la sostituzione di tritono della settima e la settima del mi bemolle settima, e viceversa. La sostituzione di tritono è sempre la stessa perché è simmetrica, ok? Quindi questo mi bemolle è come se andasse a sostituire questo la settima, ok? Quindi questo sarebbe la sostituzione della dominante secondaria del re settima, ok? Quindi è come se dovessimo scrivere qua sub five del cinque, quindi è il sostituto della dominante secondaria del quinto grado, ok? Un po' complesso, dite, se avete delle domande scrivetemi sempre nei commenti. E appunto questo re settima, andiamo subito a questo re settima, è chiaramente il quinto grado del sol, ok? Per farvi capire la relazione. Questo la minore settima ovviamente è un secondo grado. Una cosa che ci tengo a dire è che nei numeri romani non sempre scrivo che è minore e maggiore, perché c'è poco tempo e però spiego tutto a voce, ok? Quindi tornando indietro a questo 2,5,1, si bemolle è minore settima, è il secondo relativo di questa sostituzione di tritono, ok? Quindi non segniamo niente. Però si usa sempre di default una dorica. E sulla sostituzione di tritono, sempre l'idea dominant come scelta. Ovviamente sulla minore settima, che è un secondo grado sempre dorica, sul quinto misolidia di default. Questo si minore settima è un terzo grado in relazione al sol, si usa una friggia. Questo mi minore settima è il sesto grado in relazione al sol. Di default si usa una scala eolia, ok? E invece questo la settima è propriamente, colleghiamo il discorso, ok? Colleghiamo il discorso che dicevamo prima, ok? Qua è propriamente una dominante secondaria del quinto grado, ok? Quindi qua scriviamo quinto del quinto. E si usa solitamente di default una misolidia, Anche se in questi punti i boppers o comunque i jazzisti usano questa stasia armonica per in realtà utilizzare anche scale differenti. Però ovviamente stiamo facendo un'analisi didattica semplice, ok? Questo sempre secondo grado, valgono le stesse cose che abbiamo detto prima. Dorico, misolidio, potreste anche pensare di usare una lidian dominant anche sul re settima, però vi lascio misolidio perché comunque è praticamente il quinto grado tonico del sol. Invece sul re bemolle settima, anche in questo caso, va a sostituire questo accordo, ok? Il sol settima viene sostituito dal re bemolle settima, ok? Quindi è una sostituzione di tritono della dominante secondaria del quarto grado, ok? Quindi qua andremo a scrivere sub 5 del quarto grado, ok? Perché questo re bemolle settima va a risolvere sul do maggiore. Quindi sul do maggiore la stessa possibilità, o ionia perché si tonicizza comunque, anche perché ha un ritmo armonico comunque abbastanza ampio di due battute, o lidia. E poi non vado avanti poiché l'analisi è sempre la medesima che abbiamo appena fatto su ok, cambia solo un po' la melodia e finisce in modo uguale. Se volete vi analizzo questi due cinque che vanno poi a risolvere di nuovo sul do maggiore settima, ok? Quindi questo sol settima è il quinto del quarto, che sul quinto del quarto si usa sempre una misolidia comunque, quindi non avete problemi. E sul re minore settima è sempre una dorica. Ok, quindi penso di aver detto tutto, se mi sono dimenticato qualcosa fatemelo sempre notare, anche perché queste analisi le faccio insieme con voi in diretta, anche se sono registrate, c'è qualche taglio per non farlo troppo lungo. E comunque le faccio al momento con voi, ok? Quindi spero che questo video ti sia piaciuto, se sei qua per la prima volta e ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, lascia un like, poiché mi aiuteresti molto a crescere questo canale, che è frutto di molto sforzo, ti auguro un buono studio e a presto!